Caro donatore, non credo di averti mai ringraziato come si deve e non so nemmeno che ringraziare ad essere sincera, ma grazie. Se non fosse stato per te, se non fosse stato per tutti quelli come te, probabilmente non sarei qui a scrivere di nuovo, a camminare di nuovo, a vivere la mia vita, ancora. Grazie per aver scelto di donare parte della tua. E anche se probabilmente non leggerai mai queste poche righe, sono certa che sentirai di averne salvata una e di voler continuare così. Grazie, donatore.